Ciao a tutti cari ascoltori meteo, bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdermi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a parlare della neve che dovrebbe accadere proprio verso l'Immacolata. Partiamo dal dire, un fortissimo passaggio della più fredda andrà a colpire il nostro paese, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Andando a vedere l'evoluzione, le nevicate già a questo weekend sono cadute a quote molto basse, anche di bassa collina o collina sulla Liguria e sulla Piemonte. Localmente la neve durante la mattinata e anche in queste ore sta sfiorando la pianura. Ma andiamo a vedere poi l'evoluzione come andrà. Bene, andando a vedere poi il tempo in avanti, nevicate ci saranno ma per ora si fermeranno solamente sulle alpi di confine. Ecco, il vero cambiamento ci sarà a partire dal 7, quando l'area più fredda inizierà a colpire le regioni settentrionali, centro-settentrionali, portando nevicate a bassissima quota. Come possiamo vedere i fiocchi che andranno anche a sfiorare Torino, questa qui è tutta aria di pianura, questa zona qui che state vedendo. Siamo in zone pianeggianti, i fiocchi di neve che arriveranno a Torino si oriranno alla città di Milano, mentre attenzione, accumuli più abbondanti le troveremo su quote collinari o di bassa collina. Torino troverà la neve veramente molto vicina, soprattutto durante la nottata tra l'8 e il 9, dove ci saranno precipitazioni con temperature comprese tra i 1 e i 2 gradi. Quindi vedremo delle nevicate miste, una quota neve invece intorno ai 270 metri, quindi di bassissima collina molto vicino alla pianura, e qui invece a quote più alte troveremo le nevicate. Nevicate che potrebbero sicuramente trovare anche con possibili accumuli, bisognerà vedere se non si baglieranno troppo i terreni prima della nottata, con possibili accumuli anche su asti e sulle zone del Cunese. Ovviamente sul resto stiamo parlando di zone di montagna, e quindi è ovvio che lì ci saranno accumuli. Precipitazioni invece anche molto intense si troveranno sulla Lombardia, dove localmente anche qua sfioreranno le pianure con precipitazioni che dovrebbe interessare la città di Milano, per esempio, con precipitazioni comprese tra i 4 e i 5 gradi. Attenzione perché poi durante la mattinata la temperatura potrebbe scendere fino anche a 3 gradi e qui sfiorare la pianura. Temperature veramente molto basse e clima tipicamente invernale. Giornate veramente gelate lungo tutta la Val Pagana. Vi ringraziamo della visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale, lasciate un bel like, attive la campanellina per non perdervi nessun nuvissimo aggiornamento mezzo.